Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con Still Rising Siamo ancora a Tuileries, abbiamo fatto il giro, abbiamo raggiunto il checkpoint perché ci stavo morendo malissimo Ma adesso abbiamo, o almeno ho abbastanza in testa la strada che devo prendere per arrivare, meglio per proseguire Allora, facciamo che nella vestale facciamo un bel level up, resistenza al 5, no, aumentiamo l'agilità così aumentiamo anche la potenza brutal, brutale E ok, quindi corriamo perché adesso questi io non li riaffronto, abbiamo aperto lo shortcut qui, esatto Questi bellamente li ignoro e andranno qua dentro Esattamente Il fatto che lì non posso andare Allora, entriamo qui E là c'è anche un bel droppino Ah, ok, grande gallerie E però c'è anche odore di boss qua Allora, vediamo Qua, no, blocca Ah, ok, sì L'abbiamo visto nel flashback Allora, lui è lì Che gira Noi andiamo su Intanto andiamo su Ah, comunque dobbiamo passare per forza per lui Ah, ok, lì c'è gente Abbiamo due Due tizi simpatici qua E che mi hanno anche visto No Allora, un attimo Ascettiamo di attenzione, con calma Allora, non so se stando su agriamo anche lui Mi verrebbe da dire di sì Ma non sono Ahia Ma non sono sicuro Ouch Tu vuoi andare in collisione Perfetto E tu ti muori Bene E dai le munizioni E una gatta glaciale Ok Ah, questo è andato alle spalle Senza che mi ne accorgessi Ahia Aspetta un attimo, va Ogliatore Allora Proviamo a congelarlo Oddio no È resistente questo al giasso Stavo per dire Stava per uscire ghiaccio in dialetto veneto Scusate Al ghiaccio Stavo per dire giasso E Allora Resistente al ghiaccio Ecco Non c'è da un attimo una Un pensiero in lingua veneto In dialetto Vai Guarda che ho fatto a sangue freddo Sedamenti perfetti Ok Qua c'è un drop In realtà è immobilizzante Ok Qua si va Ok Non c'è niente No Qua c'è un altro droppino Fiaschetta Olio Ah e qua si può scendere Ehm No 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 Un attimo Allora Prendiamo una fiaschetta E andiamo full vita Ehm Ci mettiamo delle granate Immobilizzante Incendiaria Va Non so Dubito Il ghiaccio Perché Insomma Se tutta questa donna Nemici Usano robe di ghiaccio Penso che lui sia abbastanza Resistente E qui Oddio Oddio Vai Non è morto Aspettate questo Aveva anche i I servi Ah no Ce n'è un altro Via 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 Non mi ha Eta Oh allora O è tanto stupido Perché non mi ha visto O è Tanto Tanto lento Magari mi ha visto Ma può essere Facciamo fuori Questo Nice Ehm No non mi ha Allora sarà più Non c'è nessun altro Non lo so in realtà Ehm Non mi pare Vabbè Ehm Buon uomo Ah possono agli anche le spalle Sì ma non penso più di fare un attacco alle spalle Invece No E non l'ho fatto Ella Aspetta 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 Ok va a fuoco Ok allora Aspettiamo che il fuoco faccia tutto effetto Possiamo anche mobilizzarlo Sì In realtà Aia Cristo In realtà Sì Mobilizziamo Bella Guardate che Col Che col Guardate che Che pedate Che gli stiamo dando Allora Altra canata incendiaria Appena Quella smette di fare effetto Secondo me è molto Qua c'è un oggetto Fiaschetta di autonomia Ok Dobbiamo ancora provarle Mamma mia Presto l'agilità Ma Ok Non ha più Fuocato Vai Perfetto Allora Adesso In teoria Dovremmo buttarlo giù Con la Immobilizzante Adesso prendiamo un attimo L'ogliatore Va Immobilizzante Lo colpiamo Abbiamo colpito Per metà Aia Ehi Guardate Non posso morire così In modo Così Idiota Contro un boss Che è Letteralmente Idiota Dai Dai Aia 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 Vai 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 Bella Pesso sia morto No Perché adesso andiamo di pistola Letteralmente Ok No Il ghiaccio non gli fa nulla Come insospettavo Ma Il fuoco Può finirlo Ovviamente no E no Ma dai Ma no Ma per così poco Vabbè Facciamo che Colpi veloci No Ok No Perfetto Buono Questo è Scopertissimo Vai Ah ok Morto 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 Perfetto Modulo Voglia di vivere Grado 2 Chiave di modulo Ok Vediamo qua Ok Qua c'è un oggetto Qua la porta Non si apre C'è anche abbastanza esperienza Non tantissima Ma Qua Non si va da nessuna parte Qua tutto chiuso Qua invece è aperto Penso sia la strada Da seguire Ok Una vestale Siamo al Quai Du Louvre Vediamo Ok Qua no L'attiviamo L'attiviamo subito Beh per forza L'attiviamo E direi che possiamo Anche fare un altro Level up Scusate Allora Dovremmo Fare Un'altra agilità Si Aumentiamo i danni fisici Per le armi Aspettiamo Aspettiamo un po' Ok Allora 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 Qua c'è un forziere Togliamo intanto Le granate Non penso che qua ci sia un nemico Perché c'è ancora la vestale In zona Quindi vado abbastanza tranquillo Ok Eh Culotte E stivaletti E ghette Vediamo Qua no Qua si può andare Quassù Mi verrebbe da dire Di sì Allora qua si può Ok Qua c'è Là c'è roba Là c'è roba Ma non Ah ok Sì Tanta qua Da qua Molto facile E senza spirito Ok Ah Io vado qua Poi posso tornare su Sì 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 Ok C'erano anche dei nemici Per terra Li ho visti Ma Per ora Là non posso Ah qua ci può anche scendere Da qua Ah ok Là si può scendere Dove Dove andare Dei Ah ok Abbiamo praticamente cambiato stanza Da là Da là Ok qua c'è un altro drop Allora prima di andare di là Andiamo giù A vedere cosa c'è di nuovo Qua è chiuso O meglio qua non ci fa entrare Qua c'è un altro drop Molto bene Che è la ghisa Ok Scendiamo giù Allora noi Andiamo giù Vediamo qua cosa troviamo Allora Per esempio Questi sono abbattibili Ah sì Fogne Ok Ricordiamoci dove stiamo andando Perché Siamo Ok qua c'è un drop Basta Tutto qua Sì Parrebbe Ok qua c'era una zona Un'area Simil nascosta Fiaschetta Elettrico Ok E senza spirito nobile Sì sì Un'area Nascosta Qua non si può andare No Ok ok Perfetto Allora Uuuuh Là c'è un tizio Che non mi ha visto però E adesso Tutto Adesso Ok Anche Ehi là Ehi là Ehi là Ti avevo visto Ti avevo visto Ai Ai Oh Cosa ha fatto La finisher La fatality Qua c'è No 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 Qua c'è un forziere Vorrei prenderlo Ma C'è il ti C'è Stavo prendendo un'acqua C'è il tizio Che però Guarda Diciamo per non sapere leggere e scrivere Sì Ehi là Ehi là Ehi là Ehi là Così Non si Elementali Ok Un altro forziere Sono un po' troppo irruento Chiave di modulo Un'altra Qua Non c'è nulla No Qua non c'è niente Dov'è andare per di là Ma penso che non ci sia nulla Qua sotto No C'è un nemico Bugia C'è un bel Ehi Vabbè Ma dai Ma che gitata c'hai Non vorrei andare troppo distante Perché ho paura di Di rimanere fregato Diciamo che Tanto anche se Si spreco le cure C'è gli odiatori Tanto comunque dopo Torno in vestigia In vestigia In vestigia In vestigia In vestigia E mi 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 ricarico Tra virgolette Cioè ricarico Le fiaschette Ok Qua c'è un drop Granata esplosiva Lui era il tizio Che abbiamo visto qua Ma non c'è nient'altro Mi pare Eh La Ma là non ci arrivo Non ci arrivo No Oggettivamente No Morirei Per cui Non penso sia Una cosa molto molto saggia Anzi E qua non c'è niente Va bene Non c'è nient'altro Da fare Noi andiamo Ritorniamo Uh Questo non me l'avevo mica visto Però eh Esimi maestri e studenti Dell'accademia reale di pittura Ho ricevuto notizia Gli armanti disordini Verificati In vari quartieri di Parigi Pertanto Temo che il re Abbia mantenuto la promessa E inviato il suo esercito Nella capitale La distruzione Di cui mi è stato riferito È talmente vasta Che ritengo Urga Condurre le opere d'arte Più preziose In luogo sicuro Per mezzo della senda Prego dunque Tutti voi Di profondere Ogni sforzo Dall'operazione Jacques Louis David Ok Ok Ricarichiamo Questi nomi francesi Ricarichiamo Ok E andiamo Con la bussola Allo serratale Di Monsieur Bailey Ok Appartamenti del Louvre Oh bello Molto bello Vediamo un po' Allora No Andiamo 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 Ok Qua tipo Qualche parte No Non mi sembra Non mi sembra Eh Aspetta Io ho paura Guarda Guardarmi No No Cazzo C'è C'era davanti Ah la c'è un forziere Impalcature Prendiamo le munizioni Chissà dove sarà la chiave Perché Qua non mi pare Che ci si andrò Va bene Ah qua si può aprire Questa No oggetto bloccato Va bene Allora andiamo per di qua Ok Oh qua c'è Uno oggetto Eh due Due Ok vediamo un po' Ah un altro flashback Non mi sembra 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 Il camp de Provence Non mi confronto Se ancora ha Niente influenzamento Nel king Dobbiamo provare Io lascerò immediatamente Per il palazzo Luxembourg Sarei attivo Antoine Io ti imploro Il tutto quartier È una blaze Monsieur Lavoiset Condivido le vostre inquietudini E sarei felice Di potervi mettere fine Posso certo intercedere Presso mio fratello Il re Del quale ritengo Di essere il solo A poter comprendere l'anima Incontriamoci questa sera A Lillet Auxdemis Nei giardini del Luxemburgo In tal sede Potremo parlare Senza temere di comprometterci Luigi Saverio Conte di Provenza Ok Qua invece c'è Monsieur Bailey Per virtù della vostra Precedente funzione Di custodio delle collezioni All'ouvre Voi occupate Degli appartamenti Messi geniosamente A vostra disposizione Poiché sua maestà Ha ora deciso Di dedicarli Ad altri fini Saranno concessi Dieci giorni Per trovare un'altra Sistemazione Qualora decidiate Di ignorare Questa disposizione Sarà compito Della polizia Di intervenire Conte Alexandre Dalbert Vice Ciambellano Dei palazzi reali Va bene Va bene Allora Vediamo Qua non c'è altro Andiamo per di qua Immagino Esatto Allora Di qua Si può scendere Però Allora andiamo Per l'ultimo Di qua Qua c'è un drop Ok Essenza Qua non c'è niente Finestre tutte chiuse Non c'è nessuna impalcatura Disponibile No Non mi sembra No Andiamo qua Ok Ah là si c'è n'impalcatura Si vede Vediamo qua Si può aprire Ok Bene Avevo riconosciuto Il chiavistello E si torna Ok Manca comunque La chiave Uh Qua c'è un altro Flashback Barra drop Flashback Ah Questo è il Cagliostro Ok Il DLC è su di lui Ok Ok beh Forse la La un po' I Sedotto Diciamo Il conte di Cagliostro Forse per potere O comunque La Corrotto Vediamo Qui Votto giù da qua No Si Si Ustia Un cane No Due Due cani Aia Due cani Ora Un cane Dai vieni qua Vieni qua ciccio Vieni qua Fuffi Fuffi Vieni qua Due Allora Io vengo giù Da là Non si poteva fare No Ok In casa Era questa Saremmo caduti Comunque Ah Qua possiamo Arrampicarci Invece Ok Ok Ah Là c'è un bel drop Ah Siamo dalla parte opposta No ma là c'è un drop anche là mi pare Vedete un drop C'è un drop anche lì Come ci arrivo lì? Come ci arrivo? C'è una porta anche là dentro Ma quanto è poco Quanto è grande è a sto posto? Ah da qua Da qua Aspetta un attimo Perché qua c'è un cancello Qua si apre Ah no ma Aspetta Ah ok Ok Qua Apriamo Eh sì Se non devo fare tutto Abbiamo lo shortcut Va bene E dobbiamo andare per di qua Che era là sopra Esatto Allora là c'è un tizio Il tizio è molto buffo Vieni Venghino Venghino Ok Eh no Aia Aia Vieni qua No Merda Muori 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 No Vai 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 Ah Eh Signorina Signorina La stamina La stamina La stamina Cazzo La stamina Era ora È tanto lenta Di caricarsi la stamina Però eh Quando andiamo in In rosso È tanto Stare attento È tanto lenta Dobbiamo evitare di portare Il Di Farla scaricare Tra virgolette Via Ok Bella Morto Morto Qua Oh no No Non si può passare Vediamo Beili Di là Andiamo per Oh Gesù No guarda Mi rifiuto di affrontarti Guarda quello che c'è qua C'è qualcosa di interessante Mi rifiuto di affrontarti Non c'è niente Ahia Eh Vaffanculo Va Non c'è niente Ah no Qua c'è Sì C'è qualcosa No Non c'è nulla C'è un drop Là in basso L'ho visto Ecco qua Il drop Vado via Vado via Vado via Vado molto via E possiamo fare un potenziamento adesso Ora che ci penso Sembra che abbiamo parecchie Abbiamo Parecchie essenze Io direi di spenderle Questa è la fieschetta Autonomia illimitata Mettiamolo Subito Abbiamo 16 Quante 4000 Usiamole Siamo a 5500 Direi di potenziarci Direi di potenziarci L'arma Possiamo anche fare le dosi Abbiamo una dose in più Ok Grado 3 Artigli Franklin 53 più 7 Questo è 62 più 5 Sapete che Io le voglio portare un attimo Tutte e due su In contemporanea Perchè secondo me questa Sul lungo può essere molto meglio Però scala anche un po' in In alchimia Non lo so 72 Vabbè intanto abbiamo questa Abbiamo ancora un sacco di robe Possiamo comprare oggetti 2500 Quanto ci manca per level A Eh appunto Uso anche gli altri Faccio 2-3 livelli a gratis Scusate C'è la possibilità Abbiamo parecchie essenze Usa 4000 Oh 2000 Potenziamoci 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 Dunque Andiamo agilità E potenziamo E l'autonomia Rimaniamo Con 700 Facciamo dei ricompere Emporio Prendiamo E ci manca anche delle granate Vabbè la granate incendiaria Due Per ora Sì Diciamo che quelle Teniamola di scorta Abbiamo sempre Sempre utili Ok Abbiamo il fluido Della Fluido dell'autonomia Qua Ok Andiamo là Lasciamo perdere lui Direi di sì Via Ah qua c'è un drop Ok Restante elettricità Qua non c'è niente Lasciamo perdere questo Tanto Ok Ha un raggio Molto limitato Ok 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 Qua Qua c'è un drop Ok E qua Si scende Sì Si Si scende Basta Sì Non c'è nient'altro Si scende allora Vai Oh Una cutscene Ok Boss Secondo me Sì Bello però Lo stile Dei nemici È molto bello Ecco Ah è la È quella che abbiamo scendito Dalla signora Selenite Del Louvre A fronte al titano Della Kurt Eh sì I fulmini È lei O lui Loro Non ho Non ho messo le granate No Aspetta Cosa ti faccio Cosa ti faccio Non ti faccio Oh beh Oddio Ti faccio niente Cazzo Ti faccio niente Non ti faccio Riesco a mettere le granate Non vorrei mai Aspetta Vediamo No oddio In realtà In realtà Li faccio Qualcosa Ok No Maia Però non mi fa Così tanto male Come non detto Come non detto Ok Dai 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 Però Allora Si può stunnare Noto Prendiamo un attimo A metterci la Rai È la piaschetta Vediamo cosa fa Abbiamo Eh Siamo illimitati Ah si bello Aveva detto La 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 peschetta Bello Beh vabbè Così però Diventa troppo facile Cioè abbiamo Abbiamo la Agitata Illimita E l'agitata Guardate quanto Lo Saccanniamo Abbiamo 30 secondi In cui possiamo Colpire l'acqua Qualunque Io ti sto sotto Io ti sto sotto Non me ne frega niente Aia Non mi frega proprio niente Io ti sto proprio sotto Non mi prendi Perché sono Troppo veloce Infatti abbiamo fatto Mezza vita Ragazzi Con una Con una Tanica sola Di carica Aia Aia Bevi 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 Eh Merda 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 Vai 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 Ok Sturnnata Un attimo Vai Forse sapete Che usiamo Bacca La più Intentazione Me Che schietto No Che schietto Non è come ho detto Vogliatore Che non ho Purtroppo Guarda quanto ti faccio Col ghiaccio Beh In realtà In realtà Sapete che si può Congelare Secondo me Questa Si può molto Congelare Perché Oddio ci consta 30 colpi Aia Tipo 30 colpi Ci costa Ma È fattibile È fattibilissima Da congelare L'abbiamo bloccata L'abbiamo bloccata Bellissimo 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 Si può anche Stunare anche i boss Pensavo solamente I nemici normali Invece anche i boss Si stunano Beh allora ragazzi Però È Facile Cioè Oddio Poi magari muoio Ok Ok No è proprio per niente Ok Cazzo Non è per niente Ok Congelati Congelati Ahia Con No 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 Mamma mia Mamma mia Congelati Congelati Perfetto Vai vai Allora Mettiamo Granata incendiaria Granata glaciale Granata esplosiva Vai 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 Perfetto Bella Bella Incendiarati da fuoco Ma questa è l'esplosiva Sbagliato 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 Ah Sbagliato Non gli faccio niente Con l'incendiaria Andiamo con la glaciale La glaciale invece Eh la glaciale congela Aiuto 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 Chieschetta 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 Vai Vai Lanciali No 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 Le ho sprecate tutte e due Ho sbagliato Tasto Provera la glaciale Ho sbagliato Tasto No No Vaffanculo Mori Mori Congelati 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 Non ti congela più Un po' Aia 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 No ho sbagliato Tasto Ho sbagliato Tasto Dai Xbox Cazzo No No Dai Congelati Congelati Cazzo Dai Ho sbagliato Una chieschetta D'autonomia Per niente No 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 Dai Non ho più risorse Dopo È caduto Ma che Ma no Ma per dove Ma perché è caduto Ma no Ma cos'è sta cosa Vieni qua E Vabbè 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 Ma di che cazzo Sei fatto Dai Ah perché dopo Che fa la carica Impianta lo scudo A terra Ah Ah ok Ok Legit Ci manca poco Manca poco Perché è fermo Voglio No Si Madò Obiettivo Selenute Mamma mia Mamma mia Questa cos'è Oh C'era C'era Bailey dentro Mi è stato caricato Non mi frega niente Frega niente Mi fai Ok Ludia Ma In che senso Perché ha dentro Questa bara Con degli elettrodi Ludia Ludia A noi niente Ludia Perché ci chiama Ludia Questo incubo Che fosse Che fosse Che fosse Che fosse Lui che alimentava Che le macchine Si alimentassero A spiriti Cioè Lui ha avuto Un sogno In cui uccideva Le persone E ma Quindi lui era La macchina Gli elettro Servivano per controllare Le macchine Della zona Tipo Oddio Non so quanto senso Posso avere M. Leboisier Do you know Where he is? He went to the palais De Luxembourg Ok Patro de Luxemburgo Si Invece Va Canzon C'era della Bastiglia Ok Ce l'avete De conoscere Ok S dell'invalide S Saint Germain Chiave del portone Bene 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 Non dire altro Ok Possiamo Gli unirsi I ripositori del re In la speranza Che qualcuno di essi S'ha avuto il massacro Allora Acqua è agita Momento Di selenite Aegis è ora Equipaggiata Col momento di selenite Un modulo speciale Ah forse È il potere Del boss LB Più A Scatto in avanti B a mezz'aria Schivata aerea Allora vediamo Quindi Ah ok Quindi se io schiaccio B in aria Ok Invece LB più A Ok Anche in volo Bello Ok Cosme un po' di stamina Bello però Molto 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 Bello Quindi Lui era qua dentro Mi sta B a È tipo Eletrodi Sono Eletrodi Andiamo Ah ok Qua c'è davvero troppo della Modulo sollievo Chiave di modulo Non c'è nient'altro Qua Nessun oggetto Qua non si può andare No Eeeh Ok Il boss ha dato a fondo Tutte le mie risorse Ma Ci siamo Eeeh Che peccato Tutte e tre le fiaschette Dove rimanermene una Ho sbagliato tasto Peccato Comunque è molto forti Ste Ste fiaschette di autonomia Sapete Perché gli danno veramente Un boost Eeeh Pauroso Allora Entriamo qua Non penso ci sia Qualcuno dopo un boss Perché sarebbe un po' da stronzi Eeeh Vediamo Qua no No Allora per uscire Bisogna fare ok Ah ok È la porta rotta È la porta rotta Quella È esatto Così Dobbiamo andare Dobbiamo andare Ah qua sotto Ritornare su un attimo Io direi di andare su lo stesso Direi Siamo a 32 minuti Ma sti cazzi Qua Ah Vedete Ah Che bello Ok Dove si deve Rientrare dentro Ok Vai Qui mi ha dato Qua non abbiamo ancora la chiave Questa è la chiave No No Qui mi ha dato Ok Benissimo Ah ok È per tornare Alla È per tornare Alla Carrozza Giusto Momento di sentenza di combattimento Momento di sentenza di combattimento Quando Aegis lo usa Danni da gelo Manere congelato Munizioni elementali Ok 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 Vediamolo subito Bello Credo Cioè Credo che sia stato Aia 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 No Vai Vai Morto 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 Dammi il drop Munizioni elementali Dobbiamo tornare praticamente alla fine Abbiamo finito la mappa Il primo pezzo Oddio C'è una cosa delle porte Siamo rimaste chiuse E dei drop Non siamo stati a prendere Ma penso che A sto punto Dobbiamo fare fuori anche Al Eh guarda qua Guarda qua E lei E lei Fare fuori anche tipo Gli altri boss Delle altre zone Sbloccare vari power up Al fine poi di Di arrivarci Oh Che cazzo Che cazzo è successo Ho avuto un attimo di Il gioco ha avuto un Mancamento Ok Fiaschette Da c'è un tizio Ma a sto punto Là c'è un drop Che possiamo arrivarci Con il Col 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 balzo Perché penso che Se no moriremo Ok Senta spirito nobile E noi Direi che Ok Tipo la Per esempio qua dentro Che non possiamo andare Perché ci manca Il Questo cancello Non si apre Direi che Si ignoro Perché tanto Sei Ignoro anche te Là c'è un drop Per esempio Questo non lo ignoro Ma ignoro Loro due Via Bellissimo Possiamo anche fare Delle fughe Qualora servisse Oh Ok Questa è una zona nuova Però noi dobbiamo andare Tipo là Dobbiamo tornare indietro Dobbiamo tornare Ah Ok Giusto Quindi qua si apre Esatto È il cancello Un attimo Gran calma Gran calma Gran calma Adesso puoi Venire qua Gran calma Adesso che il cancello è aperto Possiamo affrontarci No No Vai Ok Molto bene Abbiamo anche un sacco di Io mi porto dentro un sacco di anime Dovrei Mettere al sicuro Per dire E tu ci vai Quindi questa zona è nuova In realtà Perché là dentro Non siamo stati Perché non potevamo Potevamo muoverci lì Ah Ok Ok Però là c'è delle scale Gran gallerie Eh Io vorrei un attimo esplorare Ragazzi Vediamo qua È chiuso No Alla si può aprire Mi pare Sì Ah ok Là si apre Dove sbuchiamo Ah Dal boss Dal mid boss Perfetto Via 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 Teniamo qua su Tanto lui su Non ci può raggiungere Perché non penso ci stia Ok Qua c'è un drop Bene Essenza di spirito Qua Non si apre Perché la porta Ormai l'inizio riconosce La non No È arrivato su Cagliasalmente un'essenza c'era Ok Nulla di più Vado via Grazie Grazie Perfetto Vabbè Una chiosa Siamo andati anche qua a vedere Ma Insomma Nulla Null'altro E quindi tipo là Io posso arrivarci Adesso con il balzo E tu che cazzo Vediamo Vediamo subito Se posso arrivarci Con il balzo A parte che Non ho neanche cure Però Proviamoci un attimo Vediamo Eh Tipo Eh no Non ci arrivo col balzo Invece sì Invece sì Forse non era proprio programmato Per arrivarci col balzo Così Ma invece ci sono arrivato Ok Quanto li faccio Beh Neanche poco in realtà Possiamo stunnare Il problema è che non ho Non ho Fammi bere la fiaschetta E vai Bella In realtà L'ho vista un attimo In Aia Un attimo indecisa E se invece si Muori va Un po' di pistola Ok Munizioni Quest'area è tutta nuova Ok Bello Ah Quindi si apre il cancello E si Ah ok Questo Eh Ok ok Sì E quindi si apre anche per di qua No Ok Quindi Però di qua Di qua c'è un altro E là si può andare anche Di qua Sì Che figata Sì Ok ok Bello C'è un droppino Chiaschetta di autonomia Buona E quindi Ok No Aha Vabbè Tipo Questo lo lascio perdere Perché tanto non mi interessa Affrontarlo E da lì si va dall'altra parte Ok A posto A posto A posto Quindi Anche per di qua Bene Mi fa piacere Vi ho scoperto Un posto nuovo Con le abilità di Aegis Esatto Tipo qua Eh Tipo c'è un drop Vediamo Solo un drop Ok Un drop tranquillo L'ingotto di bronzo Beh anche un buon drop Per le armi Ah Ok E qua per tornare indietro Giustamente Per uscire Bene 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 Mi fa piacere Vi ho fatto un bel giro Sono molto contento Video molto interessante Anche una bella boss fight Anche se mi ha un po' Consumato le risorse E noi adesso dovremmo Metterci in viaggio Per la Cité O Lussemburgo Eh Io direi Di andare alla Cité Facciamola in ordine Che è la seconda zona Inizialmente prevista Ragazzi Grazie per avermi seguito Commentate Condividete Iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Di Steel Rising Ciao ragazzi Ciao ragazzi